leader lega in cabina di regia ha prevalso il buonsenso nel corso della cabina di regia che si è tenuta oggi a palazzo chigi ha prevalso un diffuso buonsenso lo ha detto il leader della lega matteo salvini al termine della sua visita all'ub vaccinale della fabbrica del vapore a milano come previsto la settimana prossima il consiglio dei ministri prenderà in esame i dati che già oggi ci dicono che mezza italia sarebbe fuori dall'emergenza e dunque con le cautele del caso e i protocolli di sicurezza ha aggiunto entro aprile laddove situazione medica lo consentirà si tornerà a vivere con un calendario di aperture precise visto che ci sono le date per la riapertura delle fiere dei congressi delle palestre delle piscine degli allenamenti dei cinema e dei teatri cioè il ritorno alla vita e simbolicamente stimolante che il primo giorno di ambito ritorno alla vita sia il 26 aprile due giorni dedicati alla libertà e alle libertà ha concluso il leader della lega